Chiedo al Segretario Generale di procedere al secondo appello. Magrone assente, Manginelli assente, Melchiorri assente, Neviera assente, Paparella assente, Paloscia assente, Penisi assente, Piccaro assente, Ranieri assente, Romito assente, Russo Frattasi assente, Scaramuzzi assente, Simone assente, Sisto assente, Vaccarella assente, Bigiano assente, Visconti assente, il Sindaco non è presente. Prego, è presente solamente lei. Constatata l'inesistenza del numero legale, procederò a convocare in seconda convocazione il Consiglio per domani alle ore 16. Grazie a tutti.